Gente Moda produce e vende direttamente al pubblico abbigliamento per cerimonia e per tutti i giorni. Fregiati tessuti italiani per abite e camice, pronte o su misura, garantiscono sempre un comfort al top della qualità. Le misure, rilevate da Sarte specializzate, riescono ad accontentare anche i clienti più esigenti. Gente Moda offre la possibilità di trovare il capo giusto per l'ufficio, le cerimonie più importanti e il tempo libero, senza compromessi di taglia o di prezzo, prestando attenzione ai particolari e alle rifiniture. Grazie ad accordi e partnership con i migliori lanifici e cotonifici, Gente Moda offre una vastissima selezione di tessuti rinomati. L'esperienza e l'attenzione ai particolari, maturata negli anni, permette di offrire un'assistenza completa nella scelta del vestito o della camicia, con l'obiettivo di farvi indossare un capo perfetto ed unico, che rivela la sua qualità nella durata e negli anni. Le taglie non sono un problema. Dalla 44 all'83, Gente Moda veste chiunque in tutte le occasioni. Dispone poi di pantaloni formali e sportivi, polo, giubbetti e giacche di alta qualità, pronti da indossare. Gente Moda è attenta anche al prezzo. Poiché produce e vende direttamente senza costi di intermediazione, il rapporto prezzo-qualità dei suoi prodotti è molto conveniente. Gente Moda, il piacere di vestire con qualità. Siamo a Barbata, a pochi minuti da Caravaggio, 30 km da Bergamo, 30 minuti da Brescia e Milano, direttamente sulla Statale 11.